madonna 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 il bizonone il bizonone il bizonone no 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 impazzisco what's up guys siamo tornati con un nuovo video oggi il nazionale è qui ahimè per la vendetta di un'arma ma una vendetta veramente guarda che verrà servita salata veramente come le cozze le impeppata di cozze di mia zia ebbene sì perché quest'arma questa suddetta arma è stata snobbata da praticamente il giorno 1 del gioco ok quindi avete già capito che si sta per parlare di un'arma di mv ebbene sì ragazzi avete già capito il bizonone raga vi giuro vi giuro se mi avessero detto che nel 2022 avrei fatto un video sul bizonone io non ci avrei mai creduto è bene sì perché settimana scorsa ci è stata una batch che quasi ha riguardato solo ed esclusivamente quest'arma dove è stata migliorata in diversi aspetti quindi attualmente è un'arma veramente croccantina vi dico solo raga che nel video che state per vedere ho sfiorato le 30 bombe non vi dico nient'altro sono rimasto a bocca aperta anzi un po' anche a bocca asciutta potrei dire e sono qui per portarvi una build lievemente diversa da quella che vi ho fatto vedere l'altro ieri col video delle classi solo ed esclusivamente perché l'ho buildata insieme allo sniper ok quindi io ho fatto giusto giusto due cambiamenti silenziatore monoblocco canna ovviamente la poligonale laserone tatticone in questo caso al posto del laser da 5 il calcio tubolare non il calcio rimosso ok e gli 84 colpi la sostanza non cambia un'arma veramente devastator devastator abbinata all'arma bizzo non sono mai state amiche compagne in questo caso lo sarà per un po' di tempo quindi vi consiglio nel caso in cui non lo utilizzate da anni riprendetelo in mano e fatemi sapere adesso vi lascerò il video che parlerà da solo raga fuori di testa a parte che avete visto qualche clip in questo video è veramente eccezionale poi raga 84 colpi non ve lo dico neanche non dovete mai ricaricare è fantastica vi scordate proprio della ricarica quindi ragazzoni belli fatemi sapere qua sotto nei commenti cosa ne pensate del super bizzonones del diablos noi ci vediamo domani con il prossimo video ah e non dimenticatevi di lasciare il follow ciao niente 170 100 dipende da dove sono però ma Gesù Cristian ma che cazzo ci fate tutti qua questo cazzo duro sto fuoco ah ce l'avevo anche dietro oddio mio oddio meno male che la one shot questo qua c'è il bombing c'è il bombing c'è il bombing mi prendere ti prego oddio mi ha croccato mi ha croccato e basta mi ha croccato mi ha sfiorato ma io andrei anche a pushare se avessi magari un'altra mitraglietta 6.002 3 armi raga in season new season tecnicamente ma stanno sparando a me non capisco prelevare come è dosca c'è un soldato nemico oh madonna sabetine crocadine porco chi ha preso la sab dal babbo è pregato di ringraziarlo questa cecchinata in headshot per lei vabbè madonna il bizonone il bizonone il bizonone il bizonone grazie gianno pazzo per la sabettina crocatina regalata gli dedico una kill col bizon signor gianno solo per lei grazie gianno grazie ancora babbi vi limono giuro no 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 impazzisco raga impazzisco impazzisco questo voleva stannarmi raga in sorvolo sta arrivando un belito attenzione in alto ritorno sta per finire testa ben piantata sulle spalle la quarta volta che lo faccio a questo buonasera sul pullback dio cantante dio ci posso credere raga ci posso credere che muoio sempre da quella casa di merda io livello mille questo ci posso credere ci posso credere mostro senza amplificato niente più ritorno niente seconde occasioni ultimi cinque resisti fino all'ultimo madonna che cazzo io ho fatto questo raga che cazzo che cazzo no no raga no raga no raga no raga no raga